Quanto pago mie tasse? Nel G1 volta E il 5 e il 28 e il 20 e il 21 e il 6 e il 28 Una volta vinci un sì Quattordes milioni però Anzi vi pagà peccà che è gigato Ma in 61 ma fa fecemo che sono mio Potevi giocare in dei fermi e il resto Ma in turno a pagà Manco più in adotto Sono chi bene piotto con l'aria di sotto Che pari un motore Nel G1 è normale La il me dottore Quanto pago mie tasse e valgere in forme un ventilador Ah ecco perché l'alternismo fisico Quanto pago mie tasse e valgere in forme un ventilador Quanto pago mie tasse e valgere in forme un ventilador Quanto pago mie tasse e che è disperazione Le dirà sei su Perché il Parlamento La Camerades le è piena di chiù Le è piena di chiù Grazie Grazie Grazie